Buonasera, siamo da Piazza dei Signori a Treviso con Laura Trocchia del Liceo Mancini di Avellino che lo scorso anno si è classificata prima alle Olimpiadi Italiane di Statistica per il secondo anno. Allora Laura, com'è stata l'esperienza? È stata sicuramente un'esperienza molto formativa dal mio punto di vista e credo che sia stata anche un'ottima opportunità per tutti gli studenti del mio anno. E suggeriresti agli studenti di iscriversi a questo tipo di competizione? Sicuramente, anche perché è un'opportunità per mettersi alla prova e scoprire di più anche sulle proprie passioni magari. Come hai trovato la prova? L'ho trovata sicuramente una prova interessante anche perché sono riuscita appunto a vedere se gli argomenti che avevo studiato erano applicabili nel campo della statistica. Benissimo, ti aspettiamo anche per quest'anno.